Si chiama La Pescara che vogliamo ed è il documento presentato dalla Confcommercio per il rilancio di commercio e turismo del capoluogo adereatico. Il piano è articolato in oltre 30 punti ed è molto dettagliato. Ascoltiamo il presidente dell'associazione, Riccardo Padovano. L'amministrazione comunale di Pescara adesso sta ritornando come tutti dopo una pandemia e abbiamo bisogno di eliminare polemiche che si scatenano tra gli operatori, i portatori di interessi e il sindaco e la sua amministrazione. Allora noi abbiamo detto che per esempio sull'area di risulta attiviamoci subito, ricollochiamo se possibile all'interno dell'area di risulta il palazzo della regione ma attiviamoci subito. All'interno o all'interno del palazzo una sala convegni che possa consentire alla città di Pescara di poter ospitare convegni con almeno 300 posti a sedere. Dobbiamo collocare le due arterie portuali, la riqualificazione della banchina nord e la banchina sud, in particolare la banchina sud che viene potenziata dagli investimenti fatti dall'ANAS che collega l'assa attrezzata al porto, ma la banchina nord che debba essere una banchina prettamente culturale. So che il sindaco su questo è d'accordo. Poi per quanto riguarda la questione dei parcheggi su Viale Marconi, dobbiamo tornare sui parcheggi perché Viale Marconi la soluzione al di là degli eventi successivi, l'apertura di via Benetto Croce sicuramente rivede il tavolo della viabilità ma se non provvediamo ai parcheggi diventa un problema. Sì è vero che le macchine possono camminare più speditamente, che io ritengo che nella città le macchine dovrebbero andare a 30 km orari, ma l'uso dei parcheggi è fondamentale per i commercianti, per i negozi. Noi ci mettiamo intorno al tavolo per dire al sindaco e alla città che dobbiamo lavorare tutti insieme perché il bene di questa città passa attraverso la vivibilità all'interno della città, ma anche la sopravvivenza delle imprese che dopo due anni, due anni e mezzo di pandemia hanno bisogno di una ripresa. Ci accingiamo all'estate, è l'occasione buona per incominciare a pianificare e a programmare, è una sorta di cronoprogramma che noi studiamo per il Comune di Pescara.